Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Evelina Cristillan, presidente del Museo Egizio di Torino e membro del Consiglio della FIFA. Buonasera, benvenuto Beppe Severnini, vice direttore editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Fabrizio Pregliasco, ecco scusate, virologo è stato in onore suo dell'Università di Milano e buonasera Vittorio Sgarbi, critico d'arte. Allora è ormai opinione diffusa che sul coronavirus c'è stato troppo allarmismo che ha prodotto una psicosi collettiva da una parte e danneggiato pesantemente l'economia dall'altra. Allora è colpa della politica, dell'informazione o dei medici? Subito dopo la pubblicità. Beppe Severnini, anche tu nella tua rubrica fotosintesi su Corriere.it hai detto che si è esagerato con l'allarmismo sul coronavirus, è colpa della politica, di noi, del mondo dell'informazione o dei medici? Beh, cominciamo a dire che il coronavirus è una cosa seria, non è che tutto il mondo ci sta preoccupando e quindi siamo tutti in preda a una psicosi, però non c'è dubbio che abbiamo esagerato secondo me e l'ho detto nella rubrica, l'ho scritto. La colpa, rapidamente, siccome la prima colpa è nostra, cioè di una società sostanzialmente fragile, una società che non è più abituata all'incertezza. Le generazioni prima di noi, tutte, erano abituate all'incertezza. Ho raccontato sul Corriere, mio padre si è fatto l'influenza spagnola e ci sono state le guerre e tutte le generazioni c'era un figlio che andava in guerra e qualche volta non tornava. Allora, noi siamo abituati, siamo una società, gli stati esauditi d'Europa, come li chiamo io, quindi non abituati all'incertezza ci siamo scoperti vulnerabili e ansiosi e dietro questa aggressività, anche sui social poi ne parleremo, che vediamo e che tante volte abbiamo commentato a otto e mezzo, spesso dietro gli aggressivi c'è una grandissima insicurezza ed è venuta fuori. La gente ha paura e ha preso delle decisioni esagerate. Io posso dire che quando io vedo girare i trentenni che assaltano il supermarket con l'occhio vitro e la mascherina, a me viene da ridere e non va bene. Finisco, l'informazione è un po' anche colpa nostra perché io giro per Milano, oggi giravo, ci saranno due persone su cento con le mascherine. Se tutti i media, e dico tutti eh, ogni volta che parlano del coronavirus, fanno vedere le persone con le mascherine, la quantità poi diventa informazione in se stessa. Diamo l'idea di un paese nel panico più ancora di quanto sia, quindi anche chi è distantissimo si convince di essere preoccupato. Quindi la società, l'informazione magari di politica e di medicina, parliamo dopo. Sì, ne parliamo. Parlando di Milano, in serata British Airways ha cancellato 22 voli Londra-Milano perché sono vuoti ormai gli aerei dalla Gran Bretagna verso la Lombardia, il capoluogo Lombardo. E quindi questa per esempio è una delle tantissime conseguenze dell'allarme coronavirus. Cinque università americane nel pomeriggio hanno annunciato che cancelleranno i loro programmi in Italia. Poi ci sono anche altri paesi, Evelina Christillen, come la Germania che invece poco fa, attraverso il ministro della Sanità Spahn, ha annunciato che, dice il ministro tedesco, ci troviamo all'inizio di una epidemia in Germania. Allora, lei è collegata stasera dal Museo Egizio di Torino che è chiuso, è chiuso da lunedì scorso. Che conseguenze pratiche ci sono con, diciamo, queste reazioni che in alcuni casi sono opportune e in tanti altri casi, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, sono esagerate? Io posso parlare appunto della nostra realtà e poi magari più avanti parleremo anche della grossa realtà del mondo dello sport. Comunque qui le do alcune cifre proprio riguardo a questa settimana, cioè quella dal 24 febbraio al primo marzo, cioè questa qua che stiamo attraversando adesso. Noi abbiamo avuto 455 tra scuole e gite scolastiche e gruppi che hanno disdetto, più altri 12.000 persone che avevano comprato, cioè scusate, 1.200 persone che avevano comprato i biglietti online. Facendo un conto a ribasso di quelle che sono le nostre presenze in questa settimana, anche con chi avrebbe comprato il biglietto, saremo arrivati, siamo, arriveremo a 20.000 persone in meno. Noi facciamo 850.000 visitatori all'anno. Tra quello che noi perdiamo con le mancate visite, più tutto quello che riguarda naturalmente la formazione, la didattica, il bookshop, il museum shop e così via, noi arriviamo a una perdita secca di 500.000 euro in questa settimana, a cui però vanno sommati i 135.000 euro di spese fisse che noi dobbiamo comunque mantenere. Se posso dire, c'è una crisi ancora più grave che è quella delle persone che non lavorano direttamente con noi. Noi abbiamo 50 dipendenti che sono dipendenti del Museo Egizio, più quelli che lavorano con la cooperativa. Sono 160 persone, quindi 160 famiglie che lavorando, lasciami dire una parola sbagliata, lasciatemi dire a partita di una prestazione. E questo è solo un esempio di quello che può essere la conseguenza economica pratica. Quindi per noi è un problema gravissimo, ma anche un problema sociale, non tanto per i soldi che noi ci mettiamo in tasca o non ci mettiamo in tasca. Il Museo Egizio, per fortuna, per ora, ha dei bilanci solidissimi. Però non è che ci possiamo permettere, oltre alla tristezza, di vedere un museo chiuso. Credo che nessuno meglio di Vittorio Sgarbi lo possa testimoniare, l'ha fatto in Parlamento. Un museo chiuso è la morte civile. E pane per i denti di Sgarbi, che lei, siccome è anche parlamentare Sgarbi, oggi è la Camera, ha votato contro il decreto del governo sul coronavirus e lo ha fatto con un intervento diciamo molto perentorio, per usare un eufemismo. Ne vediamo un estratto. Non c'è in questo momento alcuna emergenza, non solo nelle regioni non colpite, ma anche in quelle colpite. Vorrei ricordare alla vostra attenzione la dichiarazione che in molte televisioni è passata, ma evidentemente qui non è arrivata, di una studiosa che si chiama Maria Gita Gismondo che dice che a me sembra una follia si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così, è una follia, uccide di più l'influenza. Cerchiamo di ragionare che l'Italia è ferma e avrà un danno tragico nell'economia, se continuiamo a fingere che ci sia una epidemia che non c'è, non esiste e il governo per inseguire le regioni sta facendo una cosa ancora più grottesca. Ogni voto che noi diamo è un voto contro l'Italia, contro i cittadini, contro l'economia. Ve ne pentirete, sarete maledetti. Allora Sgarbi, è una situazione però molto delicata e difficile perché non sarebbe stato peggio se il governo e i medici, tutti coloro che ci hanno messo in uno stato di allerta in questi giorni, se fosse stato sottovalutato il pericolo minimizzato. È difficile trovare il giusto equilibrio, no? Sì, è molto complesso anche parlare qui in termini sereni, in Parlamento ho usato un po' di enfasi, qui vorrei dire che voi siete in questo momento contro lo Stato. Sia tu sia Christine Lin state dicendo che sei stata un'esagerazione. No, io devo ancora andare a votare, appena esco di qua vado a votare un decreto che dice esattamente il contrario. Quindi se dobbiamo dire che oggi l'informazione si dissociano dal governo, stiamo dicendo questo. Sembra il day after, potremmo dire queste cose... No, oggi il governo però è tutto, è anche il mondo della medicina, stanno tutti, diciamo... Forse lo dicono, però in Parlamento no. In Parlamento il decreto è rigidissimo e dimostra una bizzarra rincorsa tra le regioni che hanno aperto la battaglia facendo l'azione di chi dice noi siamo capaci, Lombardia e Veneto. Con Salvini che ha stimolato il conte, il quale essendo un uomo fragile, ha fatto la rincorsa per andare ancora più avanti delle regioni. Cioè siamo di fronte... Oggi un vero leghista capisce che ha sbagliato ma non può più tornare indietro. Io ho parlato con l'amico Garavaglia, il danno per l'economia, il sindaco di Arona ha tutte le prenotazioni degli alberghi per i prossimi tre mesi con gli alberghi vuoti. È terribile. È questa la vera epidemia, è questa la vera peste. Avere detto le bugie. Faccio un esempio. Dove sia la massima costituzione di cinesi? A Prato. Ce ne sono 2500. 500. Lì non ce n'è uno che sia contaminato. Perché? Perché non solo Rossi è un presidente che non si è associato agli altri. Ma i cinesi hanno tenuto in quarantena quelli che venivano dalla Cina all'Osman Noro in due alberghi, 1500 persone, sono usciti tutti sani. Non c'è un bambino contaminato. Ora guardare i dati... Adesso oggi ci sono dei bambini... Sono dei dati minimi su cui non occorreva esagerare. Purtroppo... Io lo dico da sempre. Io però a questo punto voglio interpellare il nostro virologo, esperto, professor Pregliasco, perché allora anche lei, anche voi avete detto delle bugie, come dice Sgarbi. Forse non sono bugie, ma... No, no, non sono bugie. Adesso mi mette male. Già una volta sono riuscito a schivare le ire di Sgarbi, ma forse stavolta mi mette un po' peggio. Nel senso che io sono convinto che degli interventi di distanziazione sociale, di riduzione dei momenti di contatto vada fatta e debba essere fatta perché questa patologia è vera, ha un basso rischio specifico per di singolo cittadino. È qualcosa di più, come dice la mia amica Gismondo, di un'influenza. Però qualcosa di più. Però il rischio, se non si fosse fatto nulla, è che si sarebbe inondati di malati, arrivando a cifre anche imponenti, con un effetto pesantissimo rispetto alla salute, rispetto alla capacità di assistere quella quota, seppur percentuale bassa, di soggetti che hanno bisogno della terapia intensiva, perché ce ne sono in quel piccolissimo gruppo che c'è ancora, e oltretutto un possibile danno comunque economico. È chiaro che non è facile graduare la riduzione della trasmissibilità, perché non abbiamo delle regole scientifiche nel dire se chiudiamo alle 18 i bar riduciamo di un tot per cento la possibilità di contatti. Però questo bisogno c'era. Forse una difficoltà è stata anche quella di comunicare in questo modo non esagerato. Aveva ragione Severnini quando diceva sulle TV ogni volta terapie intensive, persone con le mascherine, che ovviamente è poi un conteggio angosciante del numero dei casi che si succedono, ed è normale perché siamo in una fase espansiva. Io credo che nell'arco di una settimana, dieci giorni, queste azioni così pesanti, muscolari, potranno, io spero, credo, far vedere un effetto positivo e si possa, come dire, passare a una parte di mitigazione, di diluizione di questi casi che nell'effetto di medio-lungo termine non creeranno danni che avrebbero potuto, a mio avviso, esserci peggiori. Pridasco, oggi è stata un po' la giornata dei bambini perché finora sembravano esclusi dal contagio. Perché il virus li colpisce di meno e comunque in modo più lieve? E questi sette credo che siano i bambini trovati positivi finora? Ma di fatto non abbiamo ancora ben chiaro come mai ci sia questa differenza. Sicuramente può essere collegata alle capacità di risposta immunitaria dei bimbi e lo avevamo visto anche nelle casistiche complessive a livello internazionale, dove appunto la loro presenza è quasi nulla. Questo credo non conferma altro che qui in Italia c'è una condizione di presenza di casi, un po' come in un iceberg, la parte non visibile, cioè soggetti che hanno forme assolutamente inapparenti di malattia e che però sono coloro i quali fanno da untori e in pratica vediamo quella quota parte della piccola percentuale di soggetti che hanno invece quelle manifestazioni più pesanti. Quindi un'azione di sanità pubblica a mio avviso è presente. È chiaro che in questa fase di comunicazione c'è stato questo aspetto di panico e quindi della gente che compra l'acqua minerale pensando di non avere poi più a disposizione nei prossimi giorni. Mentre l'amica Grestellin ha il museo chiuso, io presiedo un museo in Trentino che è il BART. Lì abbiamo stabilito che devono stare le persone due metri l'una distanza dall'altra ma perlomeno è aperto. Quindi vuol dire che le misure, quando leggi che De Meagiste vuole portare anche a Napoli o l'altro balordo del ex ministro Fioramonti, portare anche delle regioni non colpite, le misure delle regioni più colpite è veramente ridicolo. Cioè chiudere le scuole anche dove possono stare aperte? Chiudere i musei? Ma com'è possibile questo? Cioè non è colpa vostra ma certamente qualcuno ha fatto diventare un'epidemia pestilenziale una cosa che è stata presa con diverse misure, più prudenti insomma. Più prudenti, forse c'è stato questo. Beppe Severnini tu sei d'accordo perché oggi Salvini attacca il governo e il Presidente del Consiglio Conte dall'inizio tutti i giorni più volte al giorno, anche oggi ha detto che lo ha rimproverato dicendo che ha sottovalutato l'emergenza. Sembrava invece il contrario, no? Perché Conte è stato onnipresente soprattutto domenica dove ha fatto moltissime trasmissioni televisive che forse aver visto nelle 24 ore così tante volte il Premier ha allarmato tante persone così che erano preoccupate ma normalmente preoccupate o no? Io non ho capito, prima sembrava che l'accusa fosse al governo di avere sopravvalutato, adesso sottovalutato. Io credo che sia molto difficile e quello che ha detto il Professor Pregliasco mi sembra corretto, cioè quando si trova davanti a una cosa del genere è molto difficile capire esattamente cosa fare e qualcosa andava fatto per ridurre le possibilità di contagio. Se poi, come abbiamo detto, un po' per colpa dei media, molto per colpa della società in cui stiamo vivendo tutto questo ha avuto questo effetto, non era facilissimo prevederlo prima. quindi io mi sento di dire che c'è stato un po' di mancanza di coordinamento e l'abbiamo visto perché è il Comune, la Regione che voleva far per sé, però che la politica se non fossero intervenuti gli avremmo detto che non erano intervenuti, dove siete, cosa fate? Io credo che fosse necessario invece un intervento per far vedere che c'erano. Perché stanno intervenendo adesso, cioè la conferma delle misure draconiane è in questo momento in Parlamento. Un vecchio 5 Stelle, Nitti, un direttore d'orchestra, ha detto che i danni alla musica, agli spettacoli, milioni e milioni e poi quantità di spettacoli chiusi perché la legge va nella direzione opposta. Noi siamo già avanti. Forse invece è stato, scopriremo e lo stiamo forse già scoprendo in queste ore, che è stata evitata un'epidemia. Forse anche c'è anche questa possibilità. Sì, però stiamo parlando come se quelle misure si sentono già superate psicologicamente da noi, invece vanno in atto da adesso. Questo documento deve essere ancora votato. No, no, no. E poi comunque a livello internazionale, lo chiedo a Evelina Christie-Len, diciamo abbiamo subito un danno anche di immagine molto pesante. Adesso ricordo solo cosa è stato fatto nelle ultime ore. Israele ha deciso di mettere in quarantena gli italiani che arrivano dall'Italia, o insomma i passeggeri che arrivano dall'Italia. Questa è una cosa. L'altra cosa è che un'altra nave da crociera, dove c'erano italiana, non hanno fatto sbarcare nessuno, hanno legato l'attracco due porti nei Caraibi. Insomma ci sono tante situazioni che oggettivamente, per non parlare delle cancellazioni... Chiusura di tutte le attività commerciali, dobbiamo ancora votare adesso, quindi vanno sul futuro. Insomma sono tante cose che ci stanno danneggiando e come immagine e concretamente da un punto di vista economico. Assolutamente, prima di tutto perché l'Italia è un paese il cui 13% del PIL è costituito dal turismo e quindi tutto quello che viene a pesare pesantemente sul turismo evidentemente non è come se fosse un paese qualunque che è del turismo, sì certo è una cosa importante ma non vitale come è da noi. Poi guardate, io che vivo molto a livello internazionale sia per consigli di musei, sia perché mi occupo molto di sport e di calcio in particolare, ma magari ne parleremo dopo, io continuo a ricevere messaggi da ogni parte dell'Europa e direi anche dagli Stati Uniti e dal Brasile, insomma cito solo gli ultimi di oggi dicendo ma che cosa vi succede? State bene? Possiamo fare qualcosa? Cioè si è creata all'estero, io adesso penso soprattutto per ragioni di pubblicità, di media, di articoli, di internet, di tutto quello che avete già detto benissimo finora, l'impressione che qui dentro si sia degli appestati. Io posso assicurare tutti quanti e l'ho fatto rispondendo a tutti quelli che gentilmente si sono preoccupati, che per fortuna, e sono d'accordo con voi, le misure sono state prese in modo preventivo perché la cosa non peggiorasse e le cose non peggiorassero, ma è di pochi minuti fa, per esempio, il rifiuto dell'Irlanda di veder giocare una partita contro la nazionale italiana di rugby a Dublino, quindi sì, c'è la preoccupazione per gli amici, ci sono le disdette eccetera, ci sono proprio dei blocchi e sicuramente questo, ripeto, per un paese come il nostro, che è il paese dell'accoglienza turistica, non parlo dell'accoglienza in altri termini e forse anche davvero è la prima volta che ci sentiamo, almeno molti di noi, come quelli che vengono rifiutati e vi assicuro che non è una bellissima sensazione, ecco, dover pensare che siamo noi quelli rimandati indietro è una cosa che fa riflettere. Severnini e poi Sgarbi. Sì, un po' di confusione c'è stata, quando io dico che noi siamo deboli e vulnerabili e un'ansia eccessiva, continuo, ripeto, questo è il punto fondamentale, però non c'è dubbio che c'è stato un po' di confusione, io vi dico, successo tre ore fa, vengo invitato da un programma televisivo della Rai e prima ancora che io dica sì o no mi dicono che io sono di Crema e Crema è comunque nella Lombardia del Sud e quindi non posso entrare in Rai. Allora, se tu non puoi entrare in Rai, nello studio Rai a Milano, sai, è una stranissima sensazione e fatecelo sapere qual è la regola, quali sono le città, quali sono i posti, questa non è, forse sai cosa avremmo, sapete anzi, lo diciamo a chi ci sta guardando e ascoltando, cosa avremmo dovuto fare? Bene, dire guardate che noi ci sono più casi anche perché abbiamo fatto più controlli, adesso abbiamo un virologo che mi dice se sbaglio o no, questo è molto importante, secondo me se questi controlli li avessero fatto anche in Inghilterra, da cui io vengo, sono successi a Brighton una serie di casi e anche altrove, ma noi secondo me abbiamo fatto bene, ci siamo mossi molto decisamente e abbiamo fatto un sacco di controlli, sono venuti fuori dei casi positivi, secondo me ce ne saranno tanti altri in giro che manco si accorgono e scopriranno mai nella loro vita di se stadi positive stavano benone e questo ha creato panico, non c'è dubbio e ha fatto confusione nel mondo, ne sono abbastanza certo, però vorrei una conferma. Professor Pregliasco? Assolutamente d'accordo, siamo stati anche strategici nella modalità con cui eseguire i campioni in modo da tracciare la storia di questi casi nell'ottica di un contenimento della diffusione, io non vorrei passare per menagramo, ma penso che magari sta capitando a noi e capiterà nelle prossimi giorni anche in altri contesti, quando questo iceberg di soggetti che sono sotto il livello dell'attenzione perché hanno quelle manifestazioni banali da questa malattia, ne emergeranno quelli un po' più complessi anche in altre nazioni, Corea del Sud, in Iran, si sono già viste queste cose e sarà difficile però alla fine dare ragione complessivamente perché io spero che la capacità di reazione dell'Italia, delle altre nazioni complessivamente a questo aspetto spegneranno la situazione complessiva, però davvero dal punto di vista della sanità pubblica quando ci si trova di fronte a un virus nuovo che ha una capacità diffusiva elevata, ancorché se non cattivissimo, anzi proprio paradossalmente perché non pesantemente debilitante le persone come questo, bisogna porsi degli obiettivi che pensano allo scenario peggiore, lavorando sapendo di riuscire a risolverlo. Ecco ma professore Pregliasco, lo dicevamo anche prima, negli altri paesi europei i contagi sono, sembrano essere molto più bassi, in alcuni poi hanno fatto molti meno tamponi che da noi, è possibile che stiano nascondendo il coronavirus e il fatto che il ministro della salute tedesco metta in guardia dal rischio, no anzi, no dal rischio, dice che sono davanti a una epidemia e che quindi annuncia anche nuove strategie, forse alla fine scopriremo che l'Italia tanto male non ha fatto? No, che siamo stati i primi o forse anche gli sfortunati ad avere nel nostro territorio delle persone incolpevoli, italiani o cinesi arrivati comunque dalla zona epicentro dell'epidemia e che hanno, come dire, pasturato con la presenza nel territorio conforme appunto che sappiamo essere banali e che quindi siamo quelli che hanno preso la prima ondata di infezioni o comunque quelli più sfortunati, ma credo che comunque siamo riusciti a reagire. Il guaio è l'aspetto della comunicazione e gli elementi che sono veramente forse fino in eccesso evidenziati, in molte trasmissioni in cui sono anche andato appunto passavano messaggi, immagini di terapie intensive, addirittura l'esercito nei checkpoint nella zona rossa, è raccontato così e è inquietante la situazione se non contestualizzata, quindi in effetti la situazione attuale è un po' come... Quindi non siete voi medici che avete mentito e esagerato, siamo noi giornalisti insieme alla politica che hanno, noi per la verità credo qui a otto e mezzo, no? Si sbaglia anche noi, è vero, fra di noi colleghi tutto sommato abbiamo messo in evidenza gli aspetti diciamo di una situazione molto variegata, è vero la malattia è banale per il singolo però l'aspetto di sanità pubblica e la sommatoria degli effetti in una situazione di mancanza di controllo e di presenza di un 15, 20, 30% di persone malate contemporaneamente è disastroso, però alla fin fine spero e penso che riusciremo a arrivare a una soluzione che comunque ci infastidirà per alcuni mesi e credo che in questo modo ci infastidirà di meno. Temo anch'io, quindi Sgarbi deve munirsi di tanta pazienza, oggi tra l'altro il capo della protezione civile che fa sempre il punto in serata ha detto attenzione alle fake news, quindi è chiaro che insomma c'è anche un appello di assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti e non solo, ma questa psicosi collettiva Sgarbi è figlia anche di anni di populismo, di complottismo, di anticasta, di tutti questi slogan che hanno diciamo solleticato più l'emotività delle persone che il raziocinio e sappiamo che tanti politici hanno guadagnato milioni di voti grazie a questo genere di politica. In parte questo, in parte ragione Severgnini sul fatto che siamo un paese di uomini fragili perché non siamo stati abituati a fare la resistenza dei nostri nonni, dei nostri padri, il carattere, il Parlamento lo dimostra perché in questo momento o fra poco alla Camera parla il Ministro Speranza, quindi noi abbiamo una cronologia doppia, la Gismondo ha parlato ormai cinque giorni di fa e ha detto la verità, così altri il CNR, poi improvvisamente è partita prima la politica nelle regioni, poi la rincorsa della politica nazionale, poi tutte le televisioni con un procurato allarme fortissimo e i cittadini più semplici, e in parte questo contraddice Severgnini erano abbastanza scettici, io ho ricevuto molti messaggi che davano ragione a me che sono lo scettico, che non credono a questa epidemia, non credono a questa sia la peste, però l'hanno vissuta come il limite, il discorso di diritti in Parlamento è tutto chiuso, ma chiusa la basilica di Vicenza, adesso apriranno Raffaello, Raffaello ha... No, no, verrà il sospeso anche quello. Ecco, dico, ma quando uno arriva dalla Cina per vedere Raffaello, che fai? Eh, niente, dalla Cina intanto non arrivano più. Allora, vi faccio vedere il punto di... Però da Prato possono arrivare. Eh, appunto, l'allarme stava provocando seri problemi anche al sistema ospedaliero nel nord Italia, come ci spiega Paolo Pagliaro, pochi secondi e poi il punto. Una buona ragione per abbassare i toni e ridurre l'allarmismo sono le conseguenze che il fenomeno coronavirus sta avendo sulle normali attività di assistenza sanitaria. In alcune città del nord ci sono difficoltà nel garantire il regolare svolgimento dei servizi d'emergenza 118 o 112. Il personale delle ambulanze è in gran parte composto da volontari, esposti come tutti alle suggestioni e alle pressioni dei media. Si sta lavorando molto in queste ore per rimotivare e compattare le migliaia di persone che dedicano il loro tempo a soccorrere gli altri. Sono a rischio non solo gli interventi di pronto soccorso, ma anche i servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili. Senza i volontari questo sistema collasserebbe rapidamente. In alcuni ospedali si è sensibilmente ridotta l'attività ordinaria e anche quella programmata, compresi gli interventi chirurgici. Molti medici di base hanno sospeso le visite sia a domicilio sia in ambulatorio e redigono i certificati di malattia sulla base dei soli dati raccolti al telefono. Sono abolite le visite fiscali. Da Torino a Venezia la Protezione Civile ha messo a disposizione la sua rete di tende riscaldate per garantire un triage separato e migliaia di posti letto aggiuntivi. Ma proprio Torino si è osservato che sta diminuendo il numero di chi fa ricorso alle cure ospedaliere. Per volontà dei familiari restano a casa soprattutto gli anziani che rinunciano così a curarsi. Evelina Cristillan, telegrafica. Due domande. Sono a rischio gli europei di calcio di giugno e le Olimpiadi a Tokyo che cominciano a luglio. Il governo giapponese ha smentito, ha detto che si terranno regolarmente. No, penso che per le Olimpiadi davvero stiamo parlando di agosto per cui davvero stiamo andando molto in là. Per quanto riguarda gli europei di calcio io parto proprio domenica per Amsterdam dove avremo sia il Consiglio sia il Congresso della UEFA. Non c'è assolutamente per ora nessun tipo di intenzione o di paura o di progetto di modificare. Quello che si sta modificando, ma non devo essere io a raccontarlo, sono le partite a porte chiuse. L'Inter di Severnini giocherà domani sera a porte chiuse a San Siro. Qui a Torino giocheremo a porte chiuse sempre con l'Inter e pronti via. E allora speriamo bene. Grazie. Grazie Evelina Cristillan. Grazie Beppe Severnini. Grazie professor Pregliasco. Grazie Vittorio Sgarvi. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio Atlantide, Andrea Purgatori. Il titolo di stasera della sua trasmissione è Sindrome Cinese e per l'appunto la paura che diventa panico. State con noi e noi ci vediamo con sempre domani notte e mezzo. Arrivederci. Grazie a tutti.